Sì, sì, no, è personalissimo, è personalissimo, l'ho dato a pochi il buco del culo, ancora non so a sfondo, se mi interessa. Se vogliamo parlare di luce e gas, possiamo tranquillamente, Paolo, eh. Ho capito, mi dica, mi dica, io sono pronto a tutto, sono aperto a 360 gradi, dica, dica. Guardi, stiamo contentando appunto per dare l'opportunità di risparmiare sull'uso e gas, ovviamente. Io non voglio risparmiare, lì è il problema, avrei voglia di tanto, tanto, quel frescolino di dietro, quel frescolino. È possibile? Dica, ma come, se ne va già? No, dai, non se ne va, dai. No, luce e gas, adesso non lo so, se vuole venire a controllare di casa mia, gli do l'indirizzo. Ah, ho capito, ma gliela faccio io l'autocertificazione, gliela faccio io per venire a casa mia, che mi fa l'assistenza. Ma lei è veramente molto simpatico, e la rincazione... No, non mi lasci, a me mi goccia sotto, eh. Cosa possiamo fare? Anch'io, lei mi ascolta, mi goccia. Ho capito, vai su, un attimo, un po' da anche una mano, no? Uno che gli goccia, un po' da una mano, no? Una mano. E' un attimo, un po' da anche una mano. E' un attimo, un attimo. E' un attimo.